Il 26 aprile, presso l'auditorium del liceo Frelitesta di Nicosia, è stata organizzata dal Chivanis Club la presentazione del libro Marcellus Capra Philosophus Ac Medicus Nicosiensis, incentrato sulla figura di Marcello Capra, il celebre medico nicosiano vissuto nel XVI secolo, in un periodo storico particolarmente fiorente per Nicosia. Marcello Capra compì i propri studi all'Università di Padova, fino a diventare uno dei medici più conosciuti ed apprezzati in Sicilia, dove operò tra Palermo e Messina, fino a diventare il medico personale di Giovanni d'Austria, figlio naturale di Carlo V e comandante della flotta cristiana che sconfisse i turchi all'Epanto nel 1571. L'evento è stato presentato dal presidente del Chivanis di Nicosia, Giovanni Battista Lopiparo, che ha introdotto l'argomento del libro e di diversi relatori. Presente il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, che ha ringraziato il Club Service per l'invito. Poco prima dell'intervento del relatore è stata scoperta una targa donata dal Chivanis e che verrà posta all'interno dell'ospedale Carlo Basilotta di Nicosia. Tra gli interventi più interessanti della serata, quello di Elena Costa, tra i curatori del libro, che ha parlato della Nicosia del Cinquecento, partendo dallo sviluppo economico della Sicilia ed arrivando al periodo fiorente in cui si trova Nicosia nel XVI secolo, cittadine maniale, ricca di artisti e di intellettuali. Ha parlato della storia dell'ospedale di Nicosia Giovanni D'Urso, appassionato di storia locale ed uno dei curatori del libro, alla ricerca di fonti attendibili per conoscere le origini del primo presidio ospedaliero nicosiano, che a quanto pare risale addirittura a prima del XVI secolo. Sono intervenuti anche gli altri due curatori del libro, Salvatore Lopinzino e Giampiero Cimino. Tra i relatori invitati anche due docenti dell'Università di Catania, Elena Frasca, ricercatrice e docente di storia moderna, e Silvana Raffaele, ordinario di storia moderna.